Michael Pappagallo Magico e oggi giochiamo a questo gioco che non so praticamente come si chiama andiamo lo voglio potenzial potenziamolo bello andiamo a livello 2 Kika aspetta del agate mi chiamo aspetta del agate aspetta del agate aspetta del agate si me salgo tutto in bocca no 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 esordi come faccio solo qua già ricomincio la coppia andiamo 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 vediamo che cosa viene da questo qua pollo e meglio i cartelli perchè è morto a tutta la vita mela ha fatto bene a non prendere il pollo se vi chiedete che sarebbe il cibo serve per farti recuperare la vita ho messo qua pollo come on quando ne vanno sono? no no Che lì la ballano Non mi cammina Non mi va di giocare a sto gioco Abbiamo il gioco? Chi è? Non ho notato niente Non ho notato niente Diamo Milo Wow bellissimo sacco My friend No 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 E dove è mio fratello? A me gioca Qua però va quando lo guardi va tutto in ritardo Sì ma mio fratello perché usa sempre cose? Dixle è un... Ah ci faccio cogotare E vabbè ragazzi ci arrangiamo Usa il primo E' un burbarrino Ok Sopravvivente da solo un sì E' sghientata c'è E' un burbarrino E vabbè Non mi piace Non mi piace il burbarrino Grazie Grazie Mi metto E' il primo E' un b喝 Dammi con la gemma e poi chi fa? Muuuummm e va panena eh ok sono ancora el cuore Scegli perché hai succo e non voglio combattere Ma lì c'è un agasso eccolo lì c'è anche l'orso non attacca l'orso più dieci Ragazzi mi sa che qua può bastare iscrivetevi al canale attivate il campanellino e condividete questo video ciao ciao